Nell'attesissimo gran finale della serie Terra Amara, gli spettatori saranno catapultati in un'emozionante avventura. La trama si sviluppa intorno ad Odd Non Yomen, il cui ruolo risulterà fondamentale nella vita dei protagonisti di questa appassionante sopopera. Le scene conclusive della serie turca promettono di regalare momenti straordinariamente emozionanti. Prima di svelarvi gli avvenimenti che vi lasceranno a bocca aperta, diamo un'anticipazione di ciò che accadrà. Adnan, appassionato di cinema, decide di realizzare un film che racconti la storia della sua famiglia. Il protagonista principale è Zuley Ayaman, la famosa signora di Chokurova. Grazie alle preziose testimonianze di sua nonna Amine, Adnan, diventato un talentuoso regista, ha l'opportunità di portare sul grande schermo la vicenda della sua famiglia, che ha vissuto momenti intensi nella terra di Chokurova. La storia si concentra su due personaggi, Amine e il suo pronipote Adnan, il figlio di Zuley e di Yilmaz. Quest'ultimo, discendente di Demir, ha dovuto affrontare numerose tragedie sin dalla sua infanzia. Rapimenti, dolorose perdite del padre biologico, Yilmaz, e successivamente di Demir, hanno segnato la sua vita. Nonostante le avversità, Adnan è cresciuto in un ambiente di amore e felicità. Dopo aver completato gli studi di cinema in Inghilterra, Adnan ha dedicato anni di impegno a questo progetto, affiancato da sua bisnonna Amine, che gli ha fornito testimonianze e racconti preziosi sulla sua famiglia. Nel 2011, la nonna Amine ci ha lasciato all'età di 109 anni, dopo una lunga e ricca vita. La sua casa, luogo in cui ha vissuto e cresciuto circondata dai suoi cari, è diventata un prezioso ricordo della sua esistenza. Le testimonianze di Amine hanno fornito ad Adnan una comprensione approfondita delle epoche passate e gli hanno persino rivelato la vera storia di Addis Paccia. La pellicola che Adnan ha girato sulla vita di sua madre verrà presentata in anteprima al prestigioso Festival di Berlino. Questo film cattura gli eventi che hanno segnato la storia di Zuley e delle persone che hanno condiviso la sua vita. Una storia in cui l'amore trascende il tempo, le lotte raggiungono l'apice della drammaticità e la speranza si dimostra invincibile in questa affascinante e tormentata terra di Chukurova. Il gran finale della serie riserverà inaspettate sorprese agli appassionati che hanno seguito con affetto i personaggi. Adnan, cresciuto ed ormai uomo, diventerà il fulcro della narrazione. Tuttavia, i colpi di scena non si esauriranno qui. Nei prossimi video, vi sveleremo il destino dei protagonisti che completeranno questo straordinario e coinvolgente racconto. Vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara.